Prendi un disco e fallo girare Oh, once watching us Prendi un disco, no No, concerto Prendi un concerto Anna è appena rientrata da Milano, dal foro di Assago Indovinate a che concerto ero? Inizio con la M, quindi è Maurizio E te la piazzuta andare ad Assago Non sono io, non sono io Era il concerto di M, di Martinez Però dici un po', perché? Perché? Apriva la tizia che si chiama Elita Elita, è anche Menetras Chi è questa? Menetras è una band Chi è che ha iniziato? Elita, innanzitutto Raccontaci un po' questo concerto, come è andato? Ah, aspetta, allora partiamo dall'inizio Vai Allora Help Posizioni No, partiamo dalle posizioni Posizioni? Allora, perché il forum Ok Ok Si divide nel panther Ovvero Il panther, sì Panther E poi c'erano anche diversi settori Dove invece ti sedevi, ok? E lì dovevi pagare di più Io ero seduta nel settore B32 E ero praticamente Centro 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 Destra Centro Via di mezzo Ok Si vedeva bene, sì Sì, sì C'erano gli schermi giganti No, no No, ma anche a parte gli schermi L'avrevo lo stesso Perché comunque ero dall'alto Ma l'abbio com'è? Si sentiva bene Sì, sì Io ci sarei voluto essere oggi invece Oggi c'è Nick Cave Lo so Mannaggia Nick Cave Di domenica Io poi devo rientrare in Sardegna Quindi è un casino E vabbè Parliamo però di Melanie Martires Ci andrò un'altra volta Vabbè salutiamo Nick Cave Salutiamo Nick Cave Starei facendo un gran concerto Sicuramente Quindi Vabbè niente Allora Io sono arrivata Più o meno due ore prima A fare il genere Non so perché Vabbè due ore prima Però rispetto all'inizio del concerto È Melanie Martires Quindi Comunque sia Non è due ore prima No vabbè Della prima No dopo un'ora Faiciano potete entrare Verso le Sei e un quarto Ben organizzato Sì sì No no organizzato bene Devo dire Ok Si entra anche per settore Sono Cioè 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 c'è un ingresso Per un settore Uno per un altro Oppure c'è la fila unica Allora C'era Il settore B e C Entravamo insieme Ok Mentre il settore Amis era da un'altra parte E poi c'era il parter Che era Da un'altra Un'altra parte ancora Esatto Quindi ben distribuito Sì sì Ok Ok beh Poi si entra Come è la situazione Merchandising C'è Sì Ah ok Ma I prezzi diciamo Compattissimi Ti dico solo che Ti dico solo che Tipo Un paio di calze 20 euro Ah chi Eh insomma E c'era anche tipo Il vestito di Melanie 220 euro Cerca di capire Cerca di capire Merchandising Merchandising Ufficiale Quindi C'era anche C'era anche il merch Di Elita E me ne hai trasso Ho visto Ehm Vabbè Però comunque C'era anche una fila enorme Non Non faceva Sì Non era casino Ho preferito Prendere posto Poi c'erano i bar Vabbè I bar Ovviamente Vabbè L'ho organizzato bene Sì 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 E ci sono anche tipo Gli steward Che ti accompagnano al posto No Non ti accompagnano Ah no Allora Ci sono gli steward Che stanno tipo Davanti a Alle porte Ok Per farti Entrare Nei diversi E poi nel caso In cui uno magari Si siede Alla struttura Nel caso Un posto Vabbè E tu dici Scusa Ma E poi lui dice No ma questo è il mio posto Tu puoi Ma lo steward Dice no Questo è il posto suo Ma poi gli steward Si arrivano anche Ad esempio Nel caso di emergenza C'era Infatti ci hanno fatto vedere Nello schermo Ehm Cosa fare Nel caso di emergenza Così Ok Poi c'era uno steward Super antipatico Scusate ma Ok Se ci stai guardando Sei un antipatico No ma Perché praticamente Allora Io dovevo andare A prendere l'acqua Perché ho detto Vabbè Prima che inizi il concerto Io mi ero già seduta Ok Ho detto Vabbè Prima che inizi il concerto Vado a prendere l'acqua Cosa succede? Vado Vero che per prendere l'acqua Dovevo fare due file lunghissime A cui ho detto No vabbè Lasciamo perdere Allora Mi giro intorno Perché non trovavo un po' L'entrata del mio settore Lui hai chiesto? No Non l'ho chiesto Ok Poi l'ho trovata Stavo entrando Vado dritta Lo scuola Mi blocca Mi blocca e mi fa Così no Mi ha fatto Vado a pogare Però non era La musica giusta Vabbè L'ha fatto E io Scusa Sì E lui Per dirmi Di fargli vedere il biglietto Ah ok Cioè ma Calmati Sono dentro Vuol dire che ce l'ho il biglietto Comunque dai Andiamo a andare Con questa cosa Vabbè Vi ho fatto vedere Dai Già mi ha fatto vedere Vai Iniziamo a parlare Del concerto Dopo 4 minuti 5 minuti Di preamboli Eh vabbè Ok Ce n'è l'elita Eh Com'è? Niente male Devo dire Ma che sappiamo di questa elita? Allora Elita Credo sia La migliore amica Di Melanie Musica simile Vero? No Non proprio Ehm Non so Perché Elita Fa più musica Psichedelica E roba Che a te potrebbe piacere Vado a cercarla Sì sì È la migliore amica Di Melanie Ha recitato Infatti In K12 Sempre il film Del secondo album E Niente Niente male L'altro era una band Sì Men I Trust Non ho capito il nome Mene Men I Trust Men Uomini Ah Men I Trust E E E invece sono donne No Ah sono uomini No vabbè La cantante è donna Ok Però ci sono anche negli uomini E queste le musiche la fanno Queste non le ho mai sentite proprio Niente male anche loro No Io conoscevo La loro canzone più famosa Non mi ricordo il titolo Men I Trust Che è la prima che hanno fatto E poi le altre Non so Però Bravi anche loro E senti una cosa I volumi I volumi Rispetto a quelli di Melanie Erano più bassi Di quelli di apertura In genere non la fanno questa cosa Non ci ho fatto caso Hai riscontrato questa cosa qua? No 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 Mi sa Erano simili Comunque Solo le luci cambiavano Perché in Elita Che magra la cosa Che scada Con Elita C'erano le luci tutte accese Men I Trust C'era accesa la metà delle luci E invece con Melanie Tutto spento Ah ok Quindi quello sì Vabbè Però perché Melanie C'era tutta un impianto di Eh no sì Poi c'era tutta la scenografia particolare Che Comunque Vabbè quindi Aiuto raccontaci questo concerto Allora No prima Prima del concerto Perché È stato troppo divertente Quando hanno messo Mitski Ok Mitski Sì Hanno messo Nobody E Washi Machine Art Abbiamo iniziato a cantarla Tutti insieme È stato bellissimo Poi hanno messo Una canzone Che sta girando In i diversi social Su TikTok C'è il trend Su Instagram Quella che fa Wait They love you like I love you Wait E di chi è? Non lo so Però è stupenda È stato molto divertente Eh vabbè Ok no Parliamo di Melanie Allora Il concerto Complessivo È stato Stupendo Credo Uno dei migliori concerti A cui abbiamo mai partecipato E ne ho visti i concerti E ci sono andata Devo dire Bellissimo E vabbè Vabbè appunto Si dividereva in tre parti Trilogy Era appunto Del trilogy tour Perché Riguardava la trilogia Questi tre dischi qua Esatto E quindi Nella prima parte Abbiamo Cray Baby Nella seconda K12 E nella terza Portals Ah li ha proprio divise Quindi non è che ha fatto Canzoni mischiate No No assolutamente no Erano in ordine Concept Sì Nella cosa Ma che è anche giusto così Perché alla fine C'è proprio un'evoluzione Del personaggio Ma io non lo sto mettendo in niente Non mi permetterei mai C'è proprio l'evoluzione Del personaggio Quindi No è stato Ma com'era Perché è fatto Come Come uno spettacolo Cioè Nel senso Uno spettacolo teatrale Ballerini I ballerini Tanta roba Devo dire Sono bravissimi Impeccabili Cioè Non da dire Manca loro Ehm Vabbè Allora Nella prima Comunque Nella prima E la seconda parte Ha fatto meno canzoni Piuttosto che In Portals Portals Si erano fatti di più Perché comunque Lei adesso È l'ultimo disco Esatto L'ultimo disco Quindi È in quel periodo lì E quindi Ehm E anche con la maschera Ho visto Certo Tipo il doppio Sì a quattro Stranissimo Mi ricordo a Bjork Ogni volta che vedo Quella cosa lì Come si concia Bjork Conosci Bjork? No Questa è una cosa molto grave Ragazzi Ascoltate Bjork Perché cioè Bjork è Bjork Eh Ok Andiamo a andare Vabbè Ehm Anche perché Questo Eh Modo di Di presentarsi È molto Di Bjork Come Genio musicale Cioè come Modo di vestirsi E cioè E quindi È stato Fantastico Ma È Tanto una curiosità Ehm Era strutturato Come se fosse Uno spettacolo teatrale Cioè Lei non Non parlava Col pubblico Lei stava recitando Una parte No vabbè Allora Si stava recitando Però comunque No perché Come me l'hai Messa tu Cioè Stutturata In varie In varie Fasi Vabbè Qualcosa l'ha detto Però è Tipo Posso dire Paracce Thank you Fuck qualcosa Tipo One more fucking time Aspetta benissimo Poi alla fine del concerto Ci ha ringraziati In tutti i modi possibili Si stava commuovendo L'ha fatto il discorso finale E ha detto Che Era molto gratta Che è stata comunque Una delle esperienze Migliorire la sua vita Fare appunto Il trilogy tour Che era l'ultima data Del trilogy Quindi Se volete L'ultima data In Europa O ultima data In assoluto No mi sa Ne hanno messo Tipo uno A caso in Messico Tipo a novembre Però comunque È finito Cioè il trilogy Il trilogy tour è finito Magari Quella lì È un'altra così E poi lì Deciderà Se rifare questo Oppure No vabbè Credo che Variarlo Non so Però comunque Ha detto che Lì è americana Giusto? Sì Ovviamente sì Ovviamente sì Abbiamo cantato Tutti insieme E' stato bellissimo E poi ci ha fatto urlare Come ha solito Free Palestine Ah Vedi Un bel messaggio L'ha fatto In tutti i suoi spettacoli Infatti aveva La bandiera Della Palestina Mi piace anche Un po' di più Adesso Beh no Perché è giusto Di questi tempi Avere una Coscienza sociale Adesso ci Adesso ho visto Che Che non si può dire Palestina Libera Ci assureranno Il Il video Perché L'altro giorno Piccola parentesi L'altro giorno Ho visto che Uno in un banchetto Una sua bancarella Credo Uno che vende Colanine E roba del genere Ha semplicemente Messo il cartello Basta La guerra Palestina Libera E roba del genere E sono arrivati I carabinieri Cioè noi viviamo In un posto Ragazzi Dove Dire una cosa Come No la guerra O Palestina Libera Viene visto male Quindi Non voglio fare politica Ma Tutto è politica E Niente Cosa Possiamo aggiungere Che Ho visto un video Dove tu Urli come una matta Ragazzi Voi non dovete urlare così Perché Vi causate dei danni Alle corde vocali Allora Però no Allora Io appena ho visto Melanie Ho iniziato ad urlare Perché ho detto Cioè è stato tipo Un momento realizzazione Perché io fino a quel momento Non avevo realizzato Di Cioè di dover andare A un concerto Di Melanie Martinez Capisci? Senti ma La pende C'è la bella Sì Aveva i musicisti Di l'alto Aveva anche la base Ok Beh Vabbè Oramai Quasi tutti Nei grandi spettacoli Usano Quanto meno Le sequenze Che non so se cosa sono Le sequenze Sono altri suoni Che magari Non possono riprodurle In quel momento Quelli che stanno suonando Ah ok Sì vabbè Basso chitarra e batteria Non c'è il tastierista Metto in base I suoni di tastiera O di altre cose Percussioni Che magari Non ho un percussionista Cioè usare Suonare Sopra Delle Parti Che sono pre-registrate Ma anche la parte All vivo Lì devi essere molto bravo Perché hai clicchiano L'orecchio E se esci fuori Fai un casino Ovviamente Non devi stare Sul pezzo Ma questa è una roba tecnica Comunque ce l'abbiamo Dicissi Sì Ok Allora Grazie della tua No aspetta Cos'altro Ce ne mi dici Che stavo dicendo Che io mi sono emozionata Capito Quindi ho iniziato Ad urlare a casissimo Perché Boh Ho realizzato Ma anche perché Non sentivi la tua voce Fai un'altra mettermi Da quel marasma Di casino Ma chi se ne dire Non sentirà la mia voce È per quello che sforzi Sforzi quando non senti La tua voce Quindi Sembrava Ma chi si è andata a vedere Un gruppo Avevo quelli sopra di me Che erano ancora peggio Però Solo durante Portals Quindi Mi hanno un po' deluso Perché Se dovete urlare Urlate in tutto il concerto Vabbè Non so come faccio Avere la voce oggi Ma A quanto pare Ho una voce Super resistente Non so Dovrei urlare più spesso Diciamo che ti è andata bene Non urlare più spesso Adesso mi riprescono Le consiglie Occhio Perché E niente Basta finita Allora adesso Te le puoi andare a letto Bene Questa era la tua Testimonianza Ci rialvesti? Sì Ovvio Scusa Non era scontato Allora Quando torna Non ci andiamo E andremo a vedere I Fontenbissi Al prossimo giro Ma andiamo a vedere Tutti e due Andiamo a vedere Tutti e due Faccio Allora Io ho la verità Adesso E poi chiudiamo veramente Se fosse stato che Melanie Di venerdì E Nick Cave Di sabato Ragazzi Io sarei venuto E ci saremmo fatti Poi se tu volevi venire Anche a Nick Cave Va bene Se no Rimanevi a casa Rimanevi in albergo Ma io sarei andato Però di domenica Purtroppo no Si capisce che c'è il magone Che sta suonando Nick Cave E io sono a casa Va bene Alla prossima puntata Prendi un disco Prendi un concerto Prendi quello che vuoi E fallo girare Al contrario Al contrario Ciao 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 Ciao